Il governo britannico, non avendo ancora ricevuto un'adeguata risposta all'ultimatum presentato al governo tedesco, ha dichiarato guerra alla Germania nazista. Ulteriori restrizioni riguardanti i capitali liquidi. Agli ebrei sarà permesso di tenere in casa un massimo di 2000 slot. Legni distintivi per il popolo ebreo del distretto di Varsavia. Ordino che tutti gli ebrei del distretto di Varsavia indossino marchi visibili quando escono di casa. Ha creato un distretto ebreo nel quale dovranno risiedere sia gli ebrei che vivono a Varsavia sia quelli che vi si trasferiranno. Questa è una vergogna. Sì, sì, ho sentito. Lasciamo che ci portino a morire come delle pecore al bacetto. Dovr. Erlì, abbassiamoci. Perché non ci ribelliamo? Siamo mezzo milione qui. Potremmo rompere queste catene. Se moriamo lottando non saremo solo una macchia nella storia. Forse dirlo adesso sembra strano. Cosa? Avrei voluto conoscerti meglio. Spilman! Spilman! Io ho molte buone notizie per voi. So che ci sono delle falsi voci in giro che dicono che noi vogliamo, ehm... Omziren! Che vogliamo rinsidiarvi. Io vi do la mia parola che né adesso e né nel futuro niente per voi è stato programmato. E lì ho visto una mia vecchia amica. Si sente meglio da questa parte del muro, eh? Sì. Ma a volte non capisco da quale parte del muro mi trovo. È un ebreo! Fermate l'ebreo! La chiuderò dentro. Nessuno sa che lei è qui. Perciò non faccia rumore. Perciò non faccia rumore. Perciò non faccia rumore.